Gianluca Pini, lei ha presentato un'interrogazione, il merito al costo dei legali per quanto riguarda la vicenda dei Marò. 3,6 milioni di euro la ritiene una cifra eccessiva? Commento, io ho fatto un'interrogazione immediata a seguito di quello che ha scritto oggi uno dei principali quotidiani nazionali che riporta appunto una cifra iperbolica per consulenze legali, cioè quasi 4 milioni di euro che i contribuenti di fatto hanno sborsato per una difesa che non ha portato a nessun tipo di risultato. Quindi ho chiesto sia al ministro degli esteri Moverini, evidentemente troppo impegnato a cercare di farsi questa autopromozione all'interno della Commissione europea, sia al Fano che sbadato sulle questioni internazionali, tanto quanto sbadato sull'immigrazione clandestina, di rendere conto al Parlamento e quindi ai cittadini se sono vere queste informazioni, perché se sono vere è chiaro che nessuno ha dato un'autorizzazione di spesa così elevata, soprattutto non è arrivato nessun tipo di risultato perché sia l'attore che il Girone sono ancora trattenuti in India contro la loro volontà senza che sia neanche stato attivato quell'arbitrato internazionale che noi da sempre chiediamo e quindi qualcuno dia delle risposte, magari la risposta che noi ci aspettiamo sia che se effettivamente questi sono stati spesi chi li alimette, perché voglio dire in qualsiasi azienda ci deve essere una responsabilità anche all'interno dello Stato chi ha autorizzato una spesa così elevata ce li metta di tasca propria, che sia Monti che ha combinato questo pasticcio che sia quel pasticcione di dimistura che noi avevamo chiesto la rimozione e solo tardivamente è stata fatta Letta, Renzi, non lo so, chi ha autorizzato questa spesa ne deve rispondere Una cifra tanto alta per pochi risultati? No, per zero risultati, anzi la situazione si è solo incasinata grazie a questi scienziati del foro fra l'altro gente che viene nominata senza uno straccio di mandato effettivo senza che ci siano delle limitazioni a quello che è l'utilizzo del denaro pubblico la solita roba fatta all'italiana e qui, ripeto, le responsabilità sono da distribuire negli ultimi tre governi, Monti, Letta e Renzi, qualcuno deve pagare